Non mi piace classificarmi come rapper, dice di se stesso perché sono amante della musica e amo fare musica. Mauro li ha scoperti grazie a te, ti ha spiegato tutto e praticamente hanno fatto questo videoclip. Da lì Valentino è diventato Vedo! Sì! Bella raga! Vedo con noi! Esatto! Volevamo venire con la sveglia al collo oggi come si faceva un tipo trent'anni fa, ma abbiamo deciso che la sveglia non ce l'avevamo. Il trap può contaminare l'hip hop, l'afro o il reggaeton può contaminare l'hip hop? Può contaminare, se il prodotto è valido può contaminare. Lui pensa solo alla musica e dice vabbè dai oggi la musica troverò domani. Adesso bisogna avere le interviste. Beh sì. Che fighe da tenere quella. Perché da pubblicare una spezzone dove tucino roba un attimo che ci metti. Ho vinto, ho vinto. Ho vinto, ho vinto. Ho vinto, ho vinto. Ho vinto, ho vinto. Grazie a tutti.